Buonasera a tutti, buonasera, io per due anni a che Tania si porta la testa perché chiaramente vi avete sul telefono, su TikTok dei video del negozio qua dove ci troviamo, cresciamo insieme, negozio cresciamo insieme da lui a Cibali e ci piacciono i vestiti, andiamo a comprare i vestiti, vero Daniel Luzio? Già sta cominciando a provarsi dei vestiti, pantaloni, jeans, feppa, scelto e andiamo a fare con dentro la bicicletta, andiamo a fare amici, se ne facciamo con dentro noi, vuole fare bicicletta, cominciamo con questo, vai Daniel. Qua stai lavorando, alla fine stiamo facendo un video e poi stiamo facendo vedere a tutti i bimbi quello che si sta comprando le scelte di Daniel. Comunque da precisare che questo negozio lo segue Daniel, Daniel si taglia tutti i video suoi di loro e lui ha deciso di comprare da loro, certo, e non c'è pubblicità più bella quando ti seguono i bambini, vero, vero, continui, sempre. No ma finalmente ancora non si è deciso, vero Daniel? Si vuole sposare, si vuole sposare, tutto bello, ma se non vuole un'ora, se la poteri sicuramente a mangiare forno, sicuro con questa camisa poterai mangiare forno, ha, Jimenez!